Inchessa curve, niente, penalizzazione per Inter e Milan, si va verso una multa. I club aiutati anche dal precedente del 2017 che riguarda la Juventus per i rapporti con la curva sud dell'Allianz Stadium. Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video incredibile, quello che ci raccontano. Adesso andiamo a vedere come non può essere utilizzato questo precedente, anche perché i precedenti non sono mai stati utilizzati. Ne tireremo fuori qualcuno per i quali la Juventus ha pagato, almeno è stata anche indagata. Invece per quel che riguarda la squadra di città laggiù, sappiamo che è stata immessa in mezzo anche il Milan, ma solo per annacquare un pochettino il brodo, non ha mai pagato. Non ha mai pagato e la Juventus baga, è addirittura pesantemente delle penalizzazioni per cose che l'Inter già aveva fatto. C'era il precedente, ma i giornalisti non lo tirano fuori e i giudici e tantomeno i PM della magistratura, che stranamente sono tutti ultras della squadra di città laggiù, non tirano fuori e non citano nemmeno il caso del precedente, che teoricamente darebbe il permesso a tutte le squadre di Serie A di fare tutti gli illeciti e i reati che si possono fare in un campionato. Andiamo a leggere gli articoli e le notizie, perché ragazzi, carta scritta, leggere si vuole, diceva mio nonno, e andiamo a leggere proprio che cosa è successo in precedenza, cose che affossano ancora di più la squadra di città laggiù, che rischia il commissariamento, ma come raccontato manda tutti, dovrebbero essere radiati per tutto quello che hanno fatto negli anni, e lo vedremo qui, e anche per i rapporti continui che hanno con l'Andrangheta, sia il vicepresidente, sia l'allenatore che i calciatori, per non parlare degli altri dirigenti, e queste sono solo le piccole intercettazioni che ci fanno avere, perché naturalmente, non essendo come qualche anno fa con la Juventus, giustamente i giornalisti non hanno le intercettazioni, e i magistrati non gliele fanno passare. Sappiamo già che Zanetti ha avvisato la curva, perché qualche magistrato gli avrebbe detto, ehi, occhio che qui stiamo controllando tutto, allora lui prende il telefono, Zanetti chiama, Ferdico e dice, state attenti che la magistratura e la polizia vi stanno controllando, ma buon weekend a tutti voi, come sempre io vi invito a mettere un bel like per supportare questo video, inizia il weekend di calcio, anche se di calcio ben poco si può parlare, visto dopo tutto quello che succede. Comincia un campionato totalmente falsato dalla presenza della squadra degli iscrivibili, e continua ad essere un campionato totalmente falsato, perché salta fuori quello che tutti noi ormai stiamo conoscendo, ma i PM, giustamente così come i giornalisti, ci tengono a dire, parte l'ESA, parte l'ESA, c'è il precedente, e adesso gli andiamo a vedere tutti i precedenti. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato. Come sempre, io vi invito a commentare con il vostro pensiero, ma aspettate la fine, soprattutto per questo contenuto, aspettate la fine per commentare con il vostro pensiero. Ragazzi, una bella condivisione per far conoscere a tutti quello che sta succedendo, e partiamo con la prima. Io partirei da questa qui, la prima è questa qui. Inter, ausilio il mago delle plusvalenze, ecco tutte le cifre, incredibile, 134 milioni di plusvalenze negli ultimi anni, solo con incassi da giovani del vivaio. Giocatori che poi non hanno mai raggiunto la prima squadra, non hanno mai raggiunto la Serie A, non hanno mai raggiunto i vertici del campionato, soprattutto le aspettative che ci si aspettava da questi giocatori, perché pagati i fiorfior di milioni di euro, e poi invece si sono si sono volatilizzati, sono scomparsi, nessuno mai li ha visti. Ma intanto era il mago, era il mago delle baby plusvalenze, ausilio, perché giustamente faceva parte della squadra di città laggiù, e invece, poi andremo a vedere che, nonostante ci sia questo precedente, qualcosa di differente, scusate, è successo, perché lì le plusvalenze si potevano fare, perché, attenzione, lui era il mago. Qui, invece, plusvalenze stangata sulla Juve, 15 punti di penalizzazione, la Corte federale d'appello va oltre la richiesta di Kiné, pene pesanti anche per i dirigenti, due anni e mezzo per Paratici, due anni a D'Agnelli, e arriva bene, un anno e quattro mesi a Cherubini, e otto mesi a Nedvede, ragazzi, paga anche, e arriva bene che non aveva fatto nessuna operazione fino a quel punto, ma ti trovavi lì, è giusto che devi pagare. E quindi, in questo caso c'era il precedente, c'erano le plusvalenze del re, del king, delle baby plusvalenze, quello che faceva 134 milioni di euro con i giovani, che poi non hanno mai giocato, a differenza delle plusvalenze della Juventus, che sono giocatori che, ha detto, sono finiti pure in nazionale, qualcuno ha giocato pure la Champions League, pensate che plusvalenze. E quindi qui, cade, il primo appoggino, ma c'era il precedente, c'è il precedente della Juventus. Passiamo al secondo, il secondo è ancora più bello, perché il secondo ti permette proprio di fare tutto quello che vuoi. Rapporti, anzi, passaporti falsi, patteggiano, Recoba e Oriali. Attenzione, attenzione, patteggiano. Che cosa è successo? Udine, 25 maggio 2006, il GIP del Tribunale di Udine, Giuseppe Lombardi, ha accolto la richiesta di patteggiamento dell'attaccante uruguayano dell'Inter, Alvaro Recoba, e di Gabriele Oriali, responsabile dell'area tecnica della società nero-azzurra, infrangendo la pena di 6 mesi di reclusione, attenzione ciascuno, sostituita con una multa di 21.420 euro, vergogna, vergogna, una multa quando c'era l'arresto, di 21.000 euro, per gente che guadagnava milioni di euro, vuol dire, vabbè dai, offrimi un caffè, ti mando a casa. semplice, semplice, però anche lì ragazzi, attenzione, perché, per i reati di concorso in falso è ricettazione, i patteggiamenti sono stati definiti nell'ambito dell'inchiesta, sulle procedure seguite, per far diventare comunitario il giocatore, che invece in realtà non era, non era, non aveva attenuanti in Europa, anzi, antenati in Europa. Nell'inchiesta divisa in vari filoni, sono coinvolte 31 persone, fra le quali 12 calciatori, oltre al concorso in falso per l'assenza di antenati in Europa, a Recoba e Oriale l'accusa contestata è il reato di ricettazione relativo alla patente italiana, ottenuta dal calciatore uruguaiano, che faceva parte di un gruppo di documenti rubati, attenzione, negli uffici della motorizzazione di Latina, dove in quel caso, a presiedere quella zona c'era chi ne è. Ma pensate! E quindi qui ci sarebbe un precedente che apre le porte a tutti. Non ci sono più cartellini comunitari e extracomunitari, il passaporto ce lo facciamo noi in casa, così come le carte d'identità, che vengono trovate poi a degli personaggi, diciamo, che frequentano la curva dell'Inter, che aveva un daspo, ma entrava tranquillamente con un documento falso. Sappiamo che a Milano ci deve essere una sede dove fanno i documenti falsi. Questo è un precedente, è un precedente che scaggiona praticamente tutto quello che faranno in futuro. Ma attenzione perché basta solo accostare un documento qualsiasi. È la parola Juventus che... Caso Suarez, cosa rischia la Juventus? Violazione dell'articolo 32. La procura di Perugia indaga sui dirigenti della Juventus. La società rischia punizioni sportive. La FGC ha aperto un'inchessa sulla vicenda. Attenzione! La Juventus rischia procedure sportive, sanzioni sportive. La Juventus... L'articolo 32. E non c'è più il precedente documenti, facciamo il cazzo che vogliamo. No, lì per l'esame di italiano, di Suarez, dove la Juventus non c'entra niente, gli aveva soltanto molto probabilmente consigliato dove poter andare a fare l'esame anche avendo l'intenzione di prendere il giocatore e di farlo trasferire. Ma comunque tutto in regola, tutto nelle norme. Fai un esame, anticipi la data e basta. Non vuol dire niente, però lì la Juventus, articolo 32, rischia anche penalizzazione sportiva. La FGC ha aperto un'inchiesta. Non come adesso che Gravina dice eh, state calmi, state calmi che nelle intercettazioni ci sono pure io, state calmi per cortesia che hai a che fare con tutta la merda che c'è nella curva. E se mi incastrano anche sto giro dopo tutto quello che ho fatto per quel che riguarda le bustarelle nei campionati precedenti, eh, vedi che qua mi arrestano, quindi stai calmi, calmi, lasciamo che la magistratura con Dottor Viola faccia il suo corso e poi vedrete che andrà tutto in archiviazione. Come? L'esposto della Juventus. In archiviamo, archiviamo tutto. Re Cobb archiviamo, i caffè di Herrera archiviamo, arriva un altro, attenzione, perché la bomba di questa settimana che ne parlano ben pochi è Pogba. Pogba, ve lo ricordate Pogba? C'è anche un precedente, ma c'è anche un precedente anche su quello incredibile che è, e qual è questo precedente? Lo andiamo a vedere immediatamente assieme, perché il caso Pogba ne parliamo a breve, ma anche in questo caso c'è sempre la maglia di quel colore. Attenzione, doping, otto mesi di sospensione per Callon. L'attaccante merdazzurro era stato controllato dopo la partita udinese-Inter tre mesi a Gheddafi Junior della Perugia. Ve lo ricordate Gheddafi? Quello che giocava nel Perugia era sempre titolare, faceva cagare, ma lui doveva giocare, che fa incazzare suo padre, è bello mio, neanche il campo trovato. Questo me lo ricordo molto bene Gheddafi. Ma che cosa è successo? Milano, otto mesi di sospensione e il verdetto della disciplinare per l'attaccante dell'Inter, Mohamed Callon, trovato positivo in controllo antidoping dopo Udinese-Inter. Il laboratorio di Roma aveva rilevato nel primo campione sottoposto ad analisi la presenza di Nandros... Che cazzo è? Nandrosterone. Nandrosterone superiore al limite Cio. È di un altro... Ve lo metto qua ragazzi perché non lo so leggere. È di un altro componente che non so il nome. Il controllo era stato effettuato il 27 settembre e anche le controanalisi hanno dato poi il medesimo risultato. La commissione preseduta dall'avvocato Azzali e composta dallo giudice Tolsel e Roy ha accolto la difesa del giocatore attenzione. Assistito dagli avvocati Raffaelli e Capello per il quale il capo della procura antidoping del CONI Giovanni Verde ha richiesto il massimo della pena avendo definito per doping internazionale quella situazione. Callon rischiava in teoria fino a 4 anni di stop ma la previsione era molto più bassa. Gli hanno dato 8 mesi per due sostanze trovate su un calciatore che ha giocato la partita due sostanze vietate gli hanno dato 8 mesi quando avevano chiesto 4 anni. E questo qua è un precedente scusa un giocatore che gioca e che è positivo a due sostanze di cui una non riesco proprio a leggerla fanno la controanalisi e ritorna la positività a tutte e due le sostanze non come Paul Pogba che fa la prima e risulta Testosterone la seconda risulta Dea che non c'entra proprio niente però il Testosterone nella seconda Violetta è totalmente sparito ma nonostante ciò anche in questo caso perché c'è stato il precedente di Callon con la maglia di città laggiù al quale hanno fatto 8 mesi di squalifica accolta la richiesta della procura anti-doping per Pogba la squalifica di 4 anni attenzione finisce l'avventura del francese in bianco nero forse anche la sua carriera era risultato positivo al Testosterone nell'agosto del 2023 una partita che lui non giocava una partita che era solo convocato in panchina giustamente fanno il controllo su di lui che era sotto farmaci lo trovano positivo al Testosterone per la prima volta la seconda volta alla Dea va bene lo stesso su tutte le prime pagine dei giornali Pogba il dopato Drogba addirittura Ravezzani nelle sue televisioni giustamente pompa 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 manco fosse Margioglio pompa 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 che cosa fa creano un mito un mito del giocatore che ti sei fatto consigliare dalla persona sbagliata è la Juventus che professionisti avete Lilli deve pagare 4 anni è il minimo che deve prendere 4 anni poi vediamo adesso che invece il ricorso lo hanno abbassato a 18 mesi anche perché la sostanza a cui lui era positivo innanzitutto non l'ha fatta apposta e punto 2 sull'uomo non crea nessun tipo di potenziamento nessun tipo di doping perché fa effetto solo sulle donne ma attenzione hai la maglia della Juventus e i precedenti non ci sono più non ce ne frega dei precedenti devi pagare perché se io sono il PM se io sono il procuratore capo se io sono il giudice e sono anti-juventino interista canito è normale che tu devi pagare che avete vinto 10 anni consecutivi mi avete fatto scoppiare il fegato giuventini che non siete altri e allora visto che noi siamo seduti sulla poltrona della legge vi facciamo pagare tutto e invece per quel che riguarda la squadra di città laggiù la squadra di città laggiù non ti permettere sai quella è la nostra squadra è la squadra più pulita del mondo pensate che in tutti gli uffici della giustizia ci sono appese i gagliardetti dell'Inter un po' come quando tu vai nella polizia in tribunale e vedi la foto di Tottorrina tutti i ricercati li vedete tutti là perché loro devono ricordarsi i volti in questo caso è la stessa cosa si devono ricordare di chi è la mafia effettiva e allora nei loro posti di lavoro ci mettono i gagliardetti della squadra di città laggiù perché attenzione il precedente in questo caso vale prima non valeva ma adesso che c'è quella squadra lì e che è quella che probabilmente Dada Magna e beve a tutti e da divertì come dicevano nei film c'è Dada Magna beve divertì e allora è meglio che siamo siamo un attimino il precedente tirato fuori è quello della Juventus e la curva a nord nonostante la Juventus abbia denunciato paga sui giornali fa il processo viene puttanato si può dire Agnelli però alla fine ne esce fuori parte l'esa e allora loro sono parte l'esa e perché noi no? visto che alla fine l'Inter mica parlava con gli uomini dell'Andrangheta era soltanto Zanetti Ceranoglu Barella Inzaghi Ferri dico hai capito o te la devo spiegare vedi un po' Grazie a tutti